Banca Etruria, Pierluigi Boschi ha indagato nella tempesta il procuratore di Arezzo e il PD. Alla macelleria bancaria di queste ultime settimane non c'è veramente mai più fine. L'avevamo detto, l'avevamo scritto, era stato eccessivo l'entusiasmo con il quale il PD, gli esponenti del PD in commissione parlamentare di inchiesta sulle crisi bancarie avevano salutato le dichiarazioni del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, che aveva sollevato una serie di perplessità sull'azione di Banca d'Italia a proposito della crisi di Banca Etruria. Aveva detto il procuratore, trovo strano che la Banca d'Italia e il governatore Ignazio Visco avessero premuto nel biennio della grave crisi di Etruria per far fare a quella banca una fusione con la Popolare di Vicenza, che era a sua volta una banca in gravissima crisi. Queste dichiarazioni avevano immediatamente innescato l'entusiasmo, eccolo qua, dei vertici del PD, a partire da Matteo Orfini che aveva detto su Banca Etruria è emersa la vera responsabilità di Banca d'Italia. Ebbene, in quella stessa occasione lo stesso procuratore di Arezzo aveva detto che Pierluigi Boschi, il papà di Maria Elena, non è coinvolto dalle vicende di Banca Rotta che riguardano gli ex vertici di Etruria perché è entrato nel Consiglio d'amministrazione dopo che i fatti sui quali la nostra procura sta indagando avevano profilato l'ipotesi di Banca Rotta. Bene, adesso si scopre che in realtà invece le cose non stanno così perché Pierluigi Boschi è indagato per falso improspetto a proposito dell'emissione di due bond del 2013 e addirittura per esercizio abusivo del credito. Questa evenienza il procuratore Rossi non l'ha dichiarata in commissione parlamentare di inchiesta, non l'ha detto, si è limitato a dire, accusandolo in maniera impropria, che la Banca d'Italia era stata negligente nella gestione di quella partita che ricordiamolo è costata miliardi di euro, se mettiamo assieme tutte le crisi bancarie di questi anni, quasi 70 miliardi di euro, tutte a spese dei risparmiatori. E allora che cosa si può dire a conclusione parziale di questa vicenda perché ne vedremo ancora delle belle? Ricordiamo che in commissione parlamentare di vigilanza occorrerà ascoltare non solo Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, ma anche i protagonisti della vicenda Etruria che sono essenzialmente non solo Pierluigi Boschi, ma Maria Elena Boschi che deve chiarire se ha fatto qualcosa per aiutare la soluzione del problema di Banca Etruria, la banca vice presieduta da suo padre e in particolare il Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit che secondo la ricostruzione di Ferruccio De Bortoli nel suo libro fu richiesto dalla stessa Boschi per un intervento di salvataggio da parte di Unicredit nei confronti di Banca Etruria. Tutte queste cose andranno chiarite, ma questo fatto, questa novità che riguarda l'ulteriore indagine su Papa Boschi dimostra soprattutto una cosa fondamentale, in questa vicenda delle banche nessuno può scagliare la prima pietra, a partire dalla politica, nessuno può dire noi siamo innocenti, la colpa è tutta della Banca d'Italia piuttosto che della Consob, come si vede persino i magistrati hanno qualcosa da farsi perdonare, persino il procuratore di Arezzo che oltretutto ricordiamolo mentre denunciava tutte queste cose, mentre conduceva queste indagini era anche consulente di Palazzo Chigi, consulente di Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, poi Renzi dice l'aveva nominato Letta prima di me, però lui se l'è tenuto. Dunque, conflitti di interesse dappertutto e allora c'è ancora molto da tirar fuori, un'operazione trasparenza in questa vicenda delle banche e alla fine quello che si può dire con il grande Fabrizio De Andrè che lo cantava, anche se voi vi credete assolti, siete sempre coinvolti.